Il professore Clemente, che è l'autore di questo libro, nel 1965 ha cominciato la sua carriera di insegnante proprio qui al liceo Classico Scatuto e ha divulgato al massimo l'atletica e tutti quei ragazzi in cui lui ha coinvolto ci siamo un po' appassionati a questo sport e l'abbiamo portato avanti e abbiamo seguito le sue orme. Lui è partito dal liceo Classico e ha scoperto Margherita Gargano che è stata un po' la pioniera dello sport siciliano in quanto è stata la prima donna a partecipare alle Olimpiadi e quindi di là in poi l'atletica a baglieria è andata avanti, poi abbiamo avuto anni incerti che ha seguito le sue orme e in questo libro il professore Clemente parla anche di altri campioni bagheresi come Pietro Balistreri che è un atleta degli anni 50 di Aspra che gareggiava per i vigili del fuoco di Palermo e che è stato campione nazionale dei 10.000 metri della mezza maratona e ha interessato anche la maglia azzurra della nazionale. È un libro che interessa la memoria dei bagheresi ma non soltanto dei bagheresi. Bagheria ha una parte importante ma il libro ha anche tanti altri pregi, non sfocia mai nell'anedotica e soprattutto parla dello sport e dell'atletica in particolare come fatto sociale totale, come componente fondamentale della cultura dell'Italia moderna non a caso prende le mosse dall'Italia post-unitaria e analizza il ruolo seguendo anche il filo culturale di grandi antropologi storici come Juizzinga l'autore di Homo Ludens, l'importanza che lo sport ha avuto nella costruzione dell'identità del nuovo italiano dopo l'unità d'Italia la parte che vi ha avuto nel ventennio fascista, cosa ha significato per l'Italia repubblicana dal 1946 in poi pensare a delle attività sportive integrate ai curricoli scolastici quindi si trova un ragionamento culturale complessivo e non soltanto il medaglione dell'atleta di bagheria, di calto a futuro e via riscoprendo è un discorso culturale globale. Io personalmente non l'ho conosciuto ma poiché il liceo è aperto all'iniziativa culturale del territorio soprattutto sono particolarmente orgoglioso che un docente che ha insegnato tanti anni fa presso questa scuola ha pensato proprio di produrre una storiografia dell'atletica che è molto significativa, accendendo quindi a degli archivi per quanto riguarda la storia dell'atletica e quindi è stato un docente non solo che ha insegnato a scuola ma che è riuscito a relazionarsi col territorio continuando quindi questa attività fuori dalla scuola e sicuramente poiché parliamo di tanti anni fa è una fase molto importante della storia del territorio perché sottolineando la funzione dell'atletica dell'umanità sono concetti che non si possono dissociare per cui il classico che tende alla formazione dell'uomo in tutte le sue dimensioni trova in questo anche un'opportunità di esporre delle conoscenze che sono significative per il mondo sportivo ma nello specifico dell'atletica.